Proseguiamo con i fantastici speciali realizzati in Sardegna. Sardegna. A cemetery where I marry the sea, a stranger thing that never changed my mind. But I take it on the other side, take it on the other side, take it on, take it on. Ha avuto decisamente un inverno molto impegnativo perché lo ha visto protagonista nella sua performance musicale ma sappiamo che Vittorio Gucci si può lasciare andare anche alle sue vacanze. Noi abbiamo come dire catturato un momento di privacy, di libertà e ci siamo riusciti. E con noi Vittorio Gucci che tra l'altro tra qualche sera sarà ospite allo Smilers. Io ti do il benvenuto e ti chiedo come stai. Ben ritrovata, noi ci siamo visti un po' di mesi fa, bene, è vacanza, lavoro. Io la domanda che ti pongo, per un artista del tuo calibro, quanto diventa vacanza a questo momento? Perché non credo che sia proprio così. No, non è vacanza, cioè vacanza, lavoro, sono in giro a far serate, domenica sera tra l'altro tu lo annunciavi prima, sono allo Smilers con la band. Barbara D'Urso, una donna molto estremamente simpatica, affascinante. Molto, la mia padrona di casa, la persona che mi ha lanciato e che mi ha portato tanta fortuna. Quindi noi... E chiudiamo come? Voglio vivere così, con sole in fronte, e felice canto, canto per te. Night in the, Vittorio Gucci, buona estate a tutti! Ciao, grazie a voi! Ormai siamo partiti, Night in the, siamo arrivati qui a Kiwi Beach, grande organizzazione, tutti gli amici di Napoli, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti gli amici Night in the, buonasera! Avete lavorato alla grande, è un ottimo lavoro, tanti ospiti e tanti amici, arriva anche Antimo! Eccolo! Antimo, uno staff targato made in Apple, se lo posso dire! La campagna che si esprime anche in Costa Smeralda, questo fa dire che noi lavoriamo benissimo! Questo praticamente è il punto di partenza dal quale io sono partito per venire qui in Sardegna. Tutte le persone pensano che per fare un locale nazionale ci sia bisogno di uno staff nazionale. Noi siamo bravi in campagna, io conosco i miei ragazzi che lavorano con me da anni, quindi mi fido ciecamente di loro. Valentino, Lello Mascolo, Raffaele, ci sono praticamente tutti! E questa sera un ospite di eccezione è Catrina del Grande Fratello! Ormai l'estate sta finendo, dicono, però qui è ancora pieno, non sembra la fine dell'estate! Diciamo che noi ci sappiamo divertire anche a fine in fondo! Attimo, stasera cercheremo di venire al country! Raffaele, non resta che salutare Night and Day! Ciao, Nat and Day! Attimo, noi resteremo con te ancora un po', dopo ci ribecchiamo perché c'è anche Annabella, quindi sarei ancora sulle nostre telecamere! Io saluto gli amici di Night and Day! Attimo, Raffaele, qui vi piace, Night and Day, ciao! E prepari! Quante pizza in bar! Catrina, altro che grande fratello, lasciamolo perdere, accantoniamolo, questo è divertimento allo stato puro! Guarda, ormai sono passati sei anni, mi sono divertito e mi sono andato da fare, però la cosa importante è che dopo sei anni ancora la gente mi conosce come un DJ! Tante persone adesso appunto le vedo, mi fanno... Ah, ma tu sei la DJ, per me è bello! Infatti io ti appresto e ti adoro per questo! Catrina, io ammino la sua propria disponibilità e il suo carisma, quello ti fa onore! No, io vi ringrazio perché sempre, ogni volta quando ti vedo, anche perché non ci vediamo quasi mai, vi ringrazio sempre perché sei sempre una persona umile con me, perciò non è solo io con la gente, neanche voi con me! Allora, io ti lascio salutare perché devi lavorare! Un bacio a Night and Day! Un bacio da Night and Day! Un bacio, io per voi! Un bacio! Oh my God! Ciao! Un bacio a tutti! Ciao!